ciao ragazze spacchettamento time ho partecipato o meglio ho organizzato un ordine cumulativo alcuni giorni fa ed è giunto sempre alcuni giorni fa il mio pacco con ciò che avevo ordinato ebbene sì parliamo di spice of india le spese di spedizione sono abbastanza alte motivo per cui mi sono attrezzata insieme ad una carinissima ragazza che saluto ciao jo con la quale ho condiviso diciamo l'esperienza del cumulativo i pacchi sono giunti dall'india e sono giunti o meglio dall'inghilterra sono giunti a lei e questo è il mio ordine o meglio il mio spacchettamento time e ciò di cui ho voluto sperimentare le proprietà e sono appunto la rita che è una polvere da utilizzare per il lavaggio dei capelli è uno shampoo naturale qui porta la dicitura non testato sugli animali biologico biodegradabile la scadenza è per il 715 made in india e il prodotto ancora non non l'ho provato quindi devo sperimentarlo resta il fatto che è uno shampoo una terra lavante quindi naturale che si può utilizzare mischiandola con dell'acqua e quindi provarla come shampoo ecco ed è la mia diciamo prima esperienza con una polvere lavante con la tipologia di shampoo poi ho acquistato lo skin tone up che è una polvere composta prevalentemente da aloe infatti negli ingredienti come inci troviamo al primo posto aloe vera poi troviamo anche amla troviamo la jasat basma il nem l'estratto di rosa insomma una serie di di erbette utili per la pelle del nostro viso infatti for a soft and smooth skin per una pelle morbida eccolo infatti dice il principio fondamentale è il l'aloe vera andiamo avanti non poteva certamente mancare l'ene rosso io non amo molto l'ene rosso o meglio non amo l'effetto rossiccio sui capelli essendo una castana però per omogenizzare il mio colore utilizzo fare degli impacchi con l'indigo ferratintoria che ho acquistato e che vi mostrerò con l'aggiunta di una di una percentuale di n rosso che faccio ossidare nella procedura normale ordinaria di ossidazione lasciandolo quindi una notte con un in una bacinella di plastica con una diciamo in una soluzione acida ecco e quindi ho scelto lo zarca che ha riscuote molto successo almeno ho letto dei pareri positivi riguardo a questa questa tipologia di n e si parla infatti di una buona qualità visto che è anche utilizzato per i tatuaggi e quindi per coprire quei sei sette capelli bianchi è più che sufficiente e questo è il mio bottino diciamo quello che ho desiderato più di tanto lo era racchiuso in delle scatole ho comprato cinque scatole di indigo ferratintoria sempre della marca zarca e ho tolto gli scatoli me ne scuso però insomma si ritrova facilmente sul sito di spice of india ecco le sono sei e cinque bustine scusate che andrò ad utilizzare non appena finirò il l'indigo ferratintoria dell'hdi che ho utilizzato ultimamente per fare una sorta di impacco con balsamo scegliendo ovviamente lo splendore al cocco e per creare diciamo una sorta di sherasada all'indigo e poi non poteva certamente mancare nell'ordine i due bei pacchetti di amla che è un condizionante come tutti ovviamente saprete è un condizionante che io utilizzo già da un po' ed è ottimo per i capelli scuri tendenzialmente viene consigliato perché ha delle proprietà coloranti alla lunga e io l'ho utilizzato tantissimo l'ho utilizzato in passato con degli shampoo bio quindi non con delle terre lavanti e l'ho utilizzato quindi mischiato ad un importantissimo ingrediente o meglio ad un importantissimo componente che anche questa viene comprata su spice of india cioè il watika oil che non è altro un insieme di oli con la presenza prevalente dell'olio di cocco e diciamo che all'interno troviamo un momento se riesco a focalizzare l'inci comunque ve l'ho detto olio di cocco degli estratti di erbe officinali estratti di frutta poi troveremo che cosa altro lecitina profumo acqua tocco ferolo quindi vitamina e olio di citrus medica limonum quindi olio di limone olio essenziale e diciamo che lascia un ottimo profumo alla ai maschere diciamo alle ai preparati per impacchi e io sono solita mettere sempre due tre goccine di questo olio nell'impacco fatto con l'enne e diciamo che con l'enne metto più di due tre goccine questa è la quantità diciamo il flacone da vediamo un po vabbè scade nel 2015 ha il flacone di 300 ml prima avevo preso quello più piccolo adesso invece ho optato per questo grande e poi non poteva certamente mancare il fantastico olio di cocco della pride già abbondantemente usato me ne scuso però l'ho diciamo trasferito in un altro contenitore che utilizzo per il post doccia con pelle umida e io lo uso anche questo per creare delle degli impacchi nutrienti a base di amla olio di cocco e e vatica magari ci aggiungo delle goccine di olio essenziale al rosmarino per rendere ancora più profumato il tutto poi ho voluto sperimentare delle maschere che onestamente non l'ho letto male linci sono delle maschere sempre della marca vatica da bur della da bur e quindi dovrebbero in teoria questa qui avere degli estratti di olio di oliva cactus ed enne però hanno al secondo posto la paraffina liquida che è una cosa che ho scoperto quando mi sono giunti nonostante io mi sia impegnata nel leggere linci e poi l'altra maschera che è quella alle mandorle all'aloe vera che vi devo dire di fondo a parte la paraffina mi sembrano diciamo utilizzabili al massimo le farò utilizzare da mia madre comunque credo nel principio che nel periodo estivo comunque se si va in piscina e si pongono i capelli sotto grande stress sono dell'avviso che un po' un po' non dico tanto ma un po' di condizionanti chimici alle lunghezze alle punte bisognerebbe metterli perché noto che è un'esperienza personale ovviamente utilizzando esclusivamente i prodotti biologici naturali e come l'amla non ci sia poi grande protezione per il capello al punto da portarlo a sfibrarsi o comunque a rovinarsi se non viene trattato costantemente trattato con questi oli naturali quindi ogni tanto un impacchettino di anche diciamo a malincuore un impacchettino così con queste sostanze un po' chimiche lo faccio anche per non proprio sfibrare la lunghezza del capello per anche prevedere le doppie punte e questo mi capita di farlo tipo una volta ogni 20 giorni utilizzo quindi una sostanza diciamo più strutturata chimicamente più strutturata nulla questo è il mio ordine la mia partecipazione o meglio la mia organizzazione di un cumulativo per poter usufruire anch'io di questo ordine diciamo che il must have di questa di questa ordinazione dimenticavo l'olio di cocco sono prevalentemente l'indigofera tinctoria per la quale io ho deciso di organizzare questo ordine cumulativo vi ringrazio per avermi seguita un caro saluto e ci vediamo alla prossima ciao